Grazie a tutti. L'anno scorso hai presentato alcuni tuoi lavori che hanno vinto anche diversi premi e anche per le tematiche sono e sono stati molto importanti, ovvero il mistero dell'Aquila e il codice celestiniano. Che ricordi della biennale? I lavori che ho presentato sono Secretum Secretorum di Celestinian Code e il mistero dell'Aquila, la nuova Gerusalemme. È stata una bellissima esperienza perché mi ha permesso di proporre i miei lavori nell'area marzicana durante l'esposizione della salma delle spoglie di Celestino V a Piscina e a Davezano. È stata una bella esperienza alla biennale e spero che nella prossima edizione potrò presentare il mio nuovo lavoro che è legato sempre all'Abruzzo, in particolare al Fucino, all'area del Fucino, con un film documentario che tratterà le leggende del Fucino, il prosciugamento e le storie di Angizia e Circi. Celestino ha lasciato una grande eredità, non solo all'Abruzzo, un'eredità a tutto il mondo, tant'è che James Redfield poi ha dedicato delle pubblicazioni a lui, la profezia di Celestino e poi. Il messaggio più importante di Celestino è indubbiamente il perdono, il perdono che viene celebrato all'Aquila con la perdonanza che è comunque di fatto il primo giubileo del 1294, poi ripreso con il grande giubileo di Roma del 1300 da Bonifacio VIII. Quindi essenzialmente è il perdono, l'eredità più importante di Celestino, ma poi tutta la vita di questo gigante della fede è costellata da argomentazioni, comunque l'amore per la natura, l'amore per la montagna, porta ad amare ancora di più il personaggio, poi per noi abruzzesi dovrebbe essere anche un motivo di orgoglio. Sicuramente. Giormano, i tuoi prossimi appuntamenti, quindi stai concludendo questo docu-fiction o documentario sul lago del Fucino, il lago che è stato. Il lago che non c'è più. Il lago che non c'è più. Troppo. E a breve dove ti possiamo seguire? Guarda, i miei prossimi appuntamenti in zona sono all'Aquila, durante i festeggiamenti della perdonanza ho un evento dove io riproporrò il monologo che ho proposto sia a Pescina, ad Avezzano l'anno scorso 2010, in quest'occasione sarà all'Aquila ad ospitarmi ed è letterata oltre l'infinito che ho scritto subito dopo il terremoto del 6 apri 2009. E ho un altro evento in zona dove mi potrò esprimere artisticamente e sarà legato alla città di Celano, sempre nel mese di agosto. Allora Germano, tu sei un uomo metropolitano perché vivi a Roma, ma quanto è stato importante o quanto è importante secondo te il silenzio del borgo, non solo quello della Biennale e Antrosano, ma in generale il silenzio che si ritrova comunque soltanto in questi luoghi ormai? Beh, di silenzio ora, oggigiorno ce n'è sempre meno, quindi credo che si possa apprezzare di più proprio per questo motivo. Era importante all'epoca di Celestino V per meditare, per pregare, oggi è importante indubbiamente per creare e quindi apprezzo il silenzio, ho apprezzato anche molto il silenzio del borgo di Antrosano, dove c'era la sede della Biennale Marsica. Germano, allora con l'augurio di rincontrarci nel 2012, che spero non sia la fine del mondo, ti salutiamo. Io saluto voi, vi ringrazio per questa intervista, per questa opportunità, per questa passeggiata che ci stiamo facendo e speriamo di rivederci. Grazie a te Germano. Grazie a te Germano.